guardare chi c'è sta, guarda che testa dai ragazzo, guarda che testa ma non vedi che testa ma sei piede, oh, ma sei oh ah bravo, ma hai la testa che ti l'ha vinto tutti i banni tu e c'hanno due anni ma non vedi, ti riflessi c'hanno due anni c'hanno ma non vedi, c'hai il riflesso del cesso bravo, ma ti sei guardato al specchio non so dove ti manda a quei quattro a questi quattro mocciosi che sei lì bello, grande, grande grande, c'è Fabio, guarda che testa ma ti sei visto, ma ti sei visto oh, ma ti sei visto lo specchio dai, bro, ma le va, le va, le va eh, ricordati di me ma come vedi, sempre più sei sempre più ridicolo sei l'hai capito o non l'hai capito tra, ma non hai capito che sei finito ma l'hai capito, l'hai capito la gente cosa fa tra, stai sempre, stai sempre a prendere botte e i nude ti hanno gonfiato ma sta zitto, e lì lo so, ti hanno gonfiato ma bravo, l'hai visto la gente come mi tratta l'hai visto la gente come mi tratta hai visto che mi abbraccia tra, mi abbraccia ma tu hai capito che se ti becca il sicchio cosa ti combina, sì che ti manda all'omberto primo sì, sei immagino bello, praticamente hai capito, sì che ti manda all'omberto primo ma tu l'hai capito la gente quando mi vede a me tu, allora lì, tu sei talmente sfigato tu puoi picchiare soltanto quelli come te sfigato e basta perché se lo picchi davanti la faccia se lo picchi davanti la faccia ti fa mettere a piangere e ti fa piangere sul serio questo lo puoi fare dentro una telecamera e lì non lo fai davanti la faccia mia ricordatelo bene col sicchio non lo fai hai capito? non lo conosce nessuno, quante vergogni cioè chiedo quante a chi? ma adesso a te ti conosce nessuno ma lo sai chi ti conosce a te ti conoscono quei quattro come te lì sotto il quartiere tu che ci hanno i 12 anni solo quelli ti conosce non penso proprio perché io so a Roma Centro che non è manco il quartiere mio eh, è vero? sono la gente che mi taglia sono la gente che mi taglia i bracci a tigre feroci a tigre feroci a tigre feroci è il ciclo avrà sono la gente che mi taglia i bracci no in fondo del feroci c'è solo il ciclo bebi bebi vai a giocare con la pallina sull'altro strada vai 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 a giocare con la pallina sull'autostrada vai 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 che sono i miei morenni conosci ciao Fabio Russo ciao Fabio Russo ciao Fabio Russo ciao Fabio Russo non ho fatto niente a mezzo famoso non ho fatto niente a mezzo famoso ma cosa vuoi fare? sì cosa vuoi fare? bucetta 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 stupido bucetta bucetta stupido bucetta bucetta oh metate una sigaretta Comunque, oh, devo dire una cosa. Eli, ma ce l'hai coraggio di metterti faccia a faccia con me, eh? Ce l'hai? Ma se sei un ubriaco e tu non reggi neanche il controllo, non ti reggi in piedi, sei un povero sfidato. Pensa quando mi vedi davanti alla tua faccia cosa ti posso combinare. Se vieni a Roma o mi fa a fare palo o a mezzo più a palo. Sì, a te che mi fa a fare palo. A mezzo più a palo. A mezzo più a palo, a mezzo più a palo, a mezzo più a palo, a mezzo più a palo. Prima o più a palo. Barba, sciampo il capello ti faccio. Ma quale capello? Non ce l'hai capelli? A te li faccio. Barba, sciampo il capello con due schiaffi chiettini. C'è la faccia da... Come è questo, se vieni? Scusa, la polizia... No, la più faccia del pancolò ti dà mano per 30 euro. E' più faccia del pancolò ti dà mano per 30 euro. Oh, ci stanno gli amici tua, guardali, saluta. No, quella è la famiglia tua, pezz... Saluta l'amici tua, Fabio. Quella è parenti tua, so. Te la senti a prendere con il social boom, che è un povero sciampo. La prendi con me. Eh? Perché non te la prendi con il sic? Aspetta, mo' mi devo mettere la maglietta, un attimo. Sì? Mi devo mettere la maglietta, perché non si può girare così per Roma, capito? Ma che vuoi? Noi abbiamo un certo ritegno. Abbiamo un certo ritegno, capito? Non è come te a... Do sai, a Pescara, che giri... Sì, no, io sono siciliano, bello mio. Io sono siciliano, perché... Io sono siciliano, sono siciliano, sono siciliano, sono siciliano, sono siciliano, sono siciliano in Alcona. Comunque lì, allora ti voglio dire una cosa, ma tu l'hai capito che con me non c'è proprio competizione, perché ti spezzo in tue? Che capito se ne ho qua, hai capito che mi fanno, guarda, guarda che mi fanno, guardate. Vedi, mi stavano per caricare, capito? Oh, ti posso dire una cosa, quello che faccio io con loro tu non lo farai mai, perché sei un infame, sei un c***o che tu sei. Capito l'amicidua che fanno, va? No, quelli sono i tuoi amici, non sono i tuoi amici. Non fare finta di niente, non fare finta di niente, legge il confronto. Ma lascia le stesse, poveri amici. Non mettere in mezzo altre persone che non c'entrano niente. Ho detto, no, sto parlando con Elia perché io rispetto le donne, cioè nel senso non mettere in mezzo. Tutte le donne di Roma sta zitta a catena quando li vieni. Ma a catena c'è stai te, oh. Lo sai quando mi scrive mezzo a Roma? E non è il primo che fa dopo. Oh, ma se ti vedo che fa, ti porti tutta la gang dietro? Eh? Ti porti la gang dietro quando ci vediamo, sì. Eh, sai, capisci? Ma capisci? Ma capisci, ma capisci? Poglio! Ti porti tu, oh. Ti porti tu. Ma capisci tu. Ma papà, ma papà, ma hai fatto cantare, di la verità. L'ho fatto cantare. L'infame sei te. Ma hai cantato. Sei te l'infame. Sei te l'infame. Ma hai cantato. Il zicchi comanda. Ma mai cantato? Comanda. Ma mai cantato, eh? Prenditela con me. Prenditela con la tiglia veloce. Mi piace cantare. Ma io ti voglio! Oh, ma papà, ti piace questo? È più pazzo di te quello. Sì. Ma chi? Il guardione. Ogni cosa a suo tempo si dice nella vita che ti lo fa fare a differenza. Sono stato fino a mo' in caserma. Ha cantatola. Ha cantatola. Ma sta zitto che tutti i giorni fai vedere alla casa che sei un povero di p***o. Eccoli a farlo. E se ti fai un giorno di carcere, se ti fai un giorno di carcere, ti mettono a pulire i cesti. Ma papà, lo sapevo che mai cantato tanto. Ti fanno pulire i cesti, ti fanno pulire. Ha fatto cantare. Ha puntato. Ha puntato. La mia signora ha puntato. Che be' serve? Dove come... Sono uscito ora dal che... Eh, esatto. Buona vera. Sono uscito a mo' da quest'ora. No, sono uscito a mo' da quest'ora come un'altra. Ha puntato. Se l'è cantata. Ha puntato. E questa è la... No, la posso tenere qua. Ha puntato. Se l'è cantata. Ha puntato. No, la mia signora. Non è tu? Certo. Ha un fame. Oh, gli amici sui stati. Ha un fame. Ma hai chiamato te. Andi a la verità. Ha puntato. Eh, portato lì. Ah, regina. Ha puntato. Così delicato di che? Sono uscito ora dalla caserma. Sono uscito ora dalla caserma. Ma tu sei l'infame. Tu sei l'infame. Sei peggio di loro, sei. Peggio di loro. Ma io sto a parlare con la mia faccia. Non mi ha altri cinque minuti. Eh, ok. Ma avete fermato il muso via del corso. Come se la sta facendo addosso? Vai, deduti. Documenti deduti. Mentre io... Ah, ma, ma, ma. Sei il peggio confidente, sei. Quando mi fermavano a me come li facevo? Li facevo scappare io a loro. Ma chi faceva scappare? Ma stai scritto. Sono venuto con il suo fatto di destra. Ricordatelo bene. Pure a Roma sono venuto a fare la diretta. Ma chi fa scappare? Anca Roma sono venuto a casa tua a fare la diretta. Ricordatelo. Stupido. Hai capito? Non te lo dimenticate mai. Non te lo dimenticate mai. Stupido. Fermo tutti i giorni da loro. Stupido. Vieni a casa mia a fare la diretta. Vieni a casa mia a fare la diretta. Vieni, vieni qua in Ancona a palla. Io sono venuto a casa tua a fare la diretta. E mi sono fatto fermare anche io. Però mica faccio il pizzialetto come te. Ma mi sono fatto cinque anni in calcio. Io non lo posso staccare. Sto a fare la diretta. Non lo posso staccare. Che vuol dire? Ogni volta che faccio la diretta devo staccare il telefono? Perché mi devi parlare? No, non posso staccare la diretta. Il ciclo inizion bava sulle macchine inizion bava. Cioè, rientra le otto e mezza. Fiscialetto. Fiscialetto. Hanno tenuto fin d'ora. Hanno perciuto l'altro commissario. Guarda quelle piagne, raga. Il commissario di Prati. Ho già detto tutto nella ricetta e tutto quanto. La mia maria. La mia maria. Stavo in calcio. Adesso, raga, lo portano. Guarda come si stacca addosso. Ok. Che succede? Basta. Niente. Ho litigato con la mia ex. È quella che mi è tartata. Guarda come tu la canta. Tutto che sta dicendo. Tutto dalla lazerra. Mi sto litigando. Mi chiediti per te. Non fa me. Guarda come le viste caratteristiche. A chi dove ti portare ancora il commissario? A me. A putà. A putà. A putà. A putà. Eh, l'abbasso. Mentre le portano in commissariato. Per cosa? Vuoi parlare? Ma che è meglio? A direttano a stocco. Perché sto per via del corso. A putà. A putà. A direttano. Si stacca. A putà. Si stacca. Si stacca. Si stacca. Lo dice pure. Eh, eh, eh. A putà. Ti stanno a chiamare tutti i commissariati. Se lo so. Ma lui dice che ci stanno commissariati. Sono le uniche. Sto lì. Eh, lo dice. Ma io di Gironi sono le specche per le persone. Beh, non so come mi fa. Eh, quanto ci vuole a piedi da prati? Eh, chi si preoccupa? Mi siete messo a fare prepotenza buffo, eh? Eh. Ciao. Sono stato finora qua. Ora sono tornato da prati a piedi. L'abitazione dove devo tornare. Sono su via del corso. Salve, buonasera a tutti. Ah, Dio mio, ragazzi. Mamma mia, non c'è cazzo. Ma neanche il problema. No, io di Gironi sono le specche per la direttamente. Ma questo tempo lo investeva in tutta la mia vita. Mi capito. Se può fare la diretta per strada. Io le dirette le facevo contro il coprifuoco. Ma questo si è fatto bene con me. Ancora parlo. Appunto, la masica ha detto appunto. Appunto. Sei un pollo. E lì è sempre così. Un po' torno a casa che mi fermano. Dieci volanti. Tu non comandi neanche a casa tua. E quello è il bello. Che non comandi neanche a casa tua. A me quando mi fermo lo comando io. Ma non è che mi comando. Guarda che tanto contro le guardie si va sempre a perdere. Quindi non è a comando. Io non perdo mai. Perché quando mi fermano a me. C'è il tempo di denuncio. Le multe. C'è il sammigugino. Comandate il me. La tigre feroce del bengala.